Ciao gemelli, bentornato. Oggi è lunedì, 21 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo gemelli. Luna protagonista, ma con fatica. Probabilmente la Luna nel vostro segno in coppia con Giove oggi si aspetterebbe di essere protagonista, invece, con Venere opposta e Saturno in quadratura, per mantenere la posizione raggiunta dovrà fare i salti mortali. Gli altri, in primis il partner, reclamano i propri spazi, esattamente ciò che avete promesso, ma qualcosa, forse la vostra pessima organizzazione, vi impedisce di realizzare quanto avete in mente mantenendo la parola data. A vostra discolpa bisogna ammettere che, pur amandovi molto, lui o lei è troppo esigente, da voi si aspetta sempre il massimo, anche nelle ore di relax, e sentirvi sotto osservazione finisce per mandarvi in tilt. Su via, prendete la vita con più morbidezza, dopo tutto siete nativi dei gemelli e col vento, la danza e le risate, di regola ci andate a nozze. Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando il posto a qualcosa di nuovo e di rompente. Donna giovane, chiara di capelli, molto riservate e a tratti timida. C'è un passaggio obbligato da fare che permetterà al nuovo di nascere, compreso un amore da troncare o un rapporto da chiudere. Il nuovo sta per affacciarsi nella vita del consultante single, solo che occorre prendere una serie di decisioni importanti e indispensabili. Aiuti e consigli insperati da una riete. Cercate di essere aperti ai consigli e di farne tesoro. Non date sempre la colpa alla crisi, siete pigri e spesso vi inerpicate su sentieri che vi portano lontano. Avete energie a sufficienza per affrontare qualunque situazione, quindi sfruttatele. Per chi oggi festeggia qualcosa riceverà dei regali soprattutto utili. Troverete il tempo per dedicarvi a voi stessi e penserete a prendervi una vacanza. Arginerai una situazione che stava prendendo una brutta piega. Mettici determinazione e impegno. Il mal d'amore è una brutta faccenda, per chi ne soffre oggi non è una giornata rilassante ed ideale. Bene invece i piccoli colpi di fortuna. Se cercate un primo lavoro o uno nuovo sappiate che dovrete portare ancora tanta pazienza, se ne avete uno cercate la collaborazione tra colleghi e mantenete con loro un rapporto cordiale. L'amicizia porterà amore e l'amore porterà amicizia. Non essere arrogante ma comprensivo con chi non sa starti al passo siete nei pensieri di una persona, soltanto se sapeste chi è e fareste i salti di gioia. Però non datevi pensiero, molto presto scoprirete chi è. Potreste avere a che fare con persone importune, mettete in conto che dovrete sopportarle se volete mantenere con loro dei rapporti cordiali. Fastidi all'auto o alla moto. Il quadro dei transiti planetari vi vede presi della scelta di mille inviti, feste, eventi, tanto da generare in voi un po' di sazietà per quel ruolo di esperti in mondanità per cui tanto siete portati e ammirati in società. È vero che siete il segno più social dell'intero zodiaco manettuno dissonante, specie se siete nati in giugno denuncia un po' di stanchezza per voi quest'oggi. In contemporanea avvertite un senso di apatia per le attività fisiche e lo sport. Giove vi invita a riprendere il moto, specie se siete nati nella terza decade. Luna protagonista nel vostro segno, giocosa, allegrona, pronta a strizzare l'occhietto alla bella venere che dal segno opposto risponde magliarda. Potrebbero essere madre e figlia, due sorelle, due buone amiche, ma con Saturno che si frappone tra l'una e l'altra il gioco dialettico perde mordente e la giornata colore. Sulla schiena avvertite un brividino, è il senso del dovere che sopraggiunge scacciando il piacere, mentre la sera si avvicina torna il pensiero del lavoro che vi attende domani, ecco come cascare dalle nuvole sul marciapiete senza nemmeno il paracadute. Amore ed Eros. Amate e siete riamati, magari nel vostro modo disinvolto e giocoso, non parlate di romanticismo, se non nei momenti in cui la letteratura e il cinema vi ispirano e magari non promettete continuità. Questa è la regola, ma stavolta è diverso, sentite di avere accanto la persona giusta e di voler intraprendere con lei un lungo percorso a due. Tre col quattro zampe, dal quale siete inseparabili. E se lui o lei ne hanno no? Farete subito famiglia, i pupi verranno poi. La persona amata vi richiede maggiori attenzioni, il sole in bilancia vi suggerisce infatti, un delicato ascolto delle sue esigenze. Con dolcezza metterete a nudo le ragioni del suo cuore. Sempre il sole vi stimola a un momento di fusione sentimentale raro e irripetibile con la persona che avete accanto. Non sono da meno i single, che si tuffano in passioni intense e contraccambiate, specie se nati in maggio. Lavoro e denaro? Punto caldo della giornata, ma di grande soddisfazione, anche se inizialmente vi mette di fronte a qualche difficoltà, organizzativa soprattutto. Nessun problema se lavorate da soli, gli errori ve li create e ve li risolvete voi, qualche grana in più se fate parte di un gruppo. Senza direttive precise, inizialmente vi sentite spaesati, ma poi, guidati dall'intuito, entrate nel meccanismo della situazione, comprendendone le regole. Ed è fatta, la vostra intelligenza è il destriero che non vi pianta mai in asso. I mutamenti che Nettuno, in aspetto contrario, dispone nell'attività lavorativa non devono darvi pensieri. Il nuovo corso vi porterà a spunti di creatività ideali per trovare altri canali di espressione alle vostre competenze e abilità personali. Benessere. Emozioni intense, che non vi capitano spesso, vi rendono un po' lunatici, ipersensibili e estremamente ricettivi agli input esterni. L'amore è l'obiettivo e non è escluso che oggi proviate quel filo di gelosia, immotivato, oltretutto, che vi torce lo stomaco. Interrogando lo specchio come la regina Grimilde, gli chiedete se ci sia qualcuno più in gamba, più bello e più interessante di voi. Vi risponde Dino, ma la vostra insicurezza vi impedisce di credergli. Per lei, di amore ne date e ne ricevete aggetto continuo, dal partner, dai figli e dal vostro quattro zampe, che trattate alla stregua dei vostri pupi. Un biscottino a loro, un biscottino a lui. Per lui, buone forchette e ottimi cuochi. E si vede. Con la presenza di Giove nel segno, cominciate lentamente a somigliargli. Aspetto imponente, sguardo deciso, pancetta prominente. E maniglie dell'amore. Il punto è scoprire se piacciono alla vostra lei. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.